Io non ho mai pensato al gol, perché è bello fare il gol ma non mi ha dato tanto peso, veramente è normale che volevo fare, ma io sapevo che arriva, adesso è arrivato e spero che arrivino ancora tanti, come già detto, dico l'importante è che noi giochiamo bene e dopo chi fa il gol è stesso. L'anno scorso è stato un anno difficile, non lo so, sono arrivato a Italia, una serie difficile che non trovi tanto spazio, è stato difficile, dico, ma sono contento per questi gol e speriamo che li faccio adesso di più. Sì, veramente dal primo giorno che sono arrivato i tifosi sono sempre stati dietro di me, anche un anno e mezzo è stato difficile, con Stramaccioni siamo stati i nonni, è stato veramente difficile, devo ringraziare anche lui, perché lui mi ha portato qua e grazie ai tifosi, perché sono sempre con me, è veramente una cosa bella e spero che ringrazio con tante gole e tante belle giocate. Io avevo sempre fiducia nelle mie giocate, ma il gol non è arrivato, ma oggi sono stato anche fortunato sul primo, il secondo è arrivato con una bella azione di Osvaldo e me, dico, io ho bisogno che tutta la squadra fa bene, che giochiamo la palla e quando tutti giocano mi posso anche io divertire, oggi è stato veramente bello, ma dico anche, oggi è stato un Stjernan che non è una partita, una grande partita, sono un versario buono, ma non troppo buono, dobbiamo adesso pensare al Torino perché arrivano veramente tante, tante difficili partite quest'anno. Ti ha detto qualcosa Mazzarri? No, mi ha detto solo quando sono uscito, io ho anche ringraziato lui perché ho lavorato tanto con lui sul tiro, su tante cose, ho imparato veramente tanto.